Mi farò carico di portare all'attenzione del Governo il tema delle palestre. Quindi mi prendo questo impegno ufficiale attraverso di lei con i titolari di palestra. Questo è l'impegno preso dall'assessore regionale Marcato, che porterà di fronte al ministro Giorgetti nell'incontro in programma nei prossimi giorni con le regioni. A proposito del decreto sostegno, Marcato parla di grande sforzo da parte del Governo e di un passo in avanti nei criteri presi in considerazione per l'erogazione dei ristori. L'importante è che il prossimo decreto sostegni tenga conto veramente di chi ha avuto difficoltà vere dalle chiusure e di chi ha la possibilità di rimettersi in moto. Intanto Marcato ribadisce di essere a disposizione del partito nel caso gli venga chiesto di ricoprire il ruolo di segretario della Lega. Io sono un soldato, io sono un militante della Lega e come soldato sono a disposizione. E come ho sempre detto, se i militanti reputano che io sia, che io possa essere una forza per il movimento e possa essere in grado di rappresentarli, io sono a disposizione. Quindi se il partito me lo chiede, io sono assolutamente a disposizione.